Il risponso delle urne delinea il nuovo Consiglio Comunale di Pesaro. Il 60,6% ottenuto dal neosindaco Andrea Biancani porta in assise 21 consiglieri dalla coalizione di centro-sinistra, ovvero uno in più dei 20 con cui partì lo scorso mandato di Ricci. 21 consiglieri di cui 10 del Partito Democratico, 5 dalla lista Biancani-sindaco, 2 da una città in comune di Enzo Belloni, una per ciascuna delle altre quattro rappresentanze in coalizione, ovvero Forza Pesaro, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Il Faro. Per l'opposizione arrivano 5 consiglieri a Fratelli d'Italia, 3 a Pesaro Svolta, uno ciascuno per Pesaro, Lega e Forza Italia. Una situazione quanto mai mobile però in maggioranza visto che sono stati rieletti con cospicua dote di voti tutti gli ultimi nove assessori, idem per Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale uscente. Le presumibili conferme di buona parte di questi in giunta, oltre all'assegnazione della presidenza Aspes, suggeriscono un gioco di ripescaggi di metà dei consiglieri di maggioranza. Ci sono poi i ritorni di Luca Pieri, Sara Mengucci, Monica Manenti e la conferma di Luca Pagnoni di Dario. Fra le new entry i giovani Riccardo Bernardi, Timotio Tiberi, la garante dei disabili Marusca Palazzi, Romina Domenici e Vellina Anniballi della lista Biancani-sindaco, Francesca Tomassolli di Una Città in Comune e Stefano Donini del Faro. All'opposizione c'è l'ingresso di Marco Lanzi al fianco di diversi confermati, a cominciare da Michele Redaelli e Giulia Marchionni, ovvero i due che hanno incassato più voti, oltre a Dario Andreoli per la Lega, Daniele Malandrino per Fratelli d'Italia e Giovanni Dall'Asta, che ora diventa anche consigliere regionale, occupando il ruolo lasciato vacante da Luca Serfilippi, neosindaco di Fano. Novità per la rappresentanza di Fratelli d'Italia con l'ingresso di Giovanni Corsini, Cristina Natalia Canciani e la coordinatrice Serena Boresta. Per Forza Italia entra Mauro Marinucci per la lista Pesarò Antonio Bartolomei.